Minori, sofferenze possibili, recupero veloce alla normalità. È la nuova filosofia con cui i chirurghi oggi affrontano la gestione del paziente operato di chirurgia addominale. È il tema al centro del meeting di oggi al Baia Hotel di Vietri sul Mare, dove si sono riuniti gli specialisti della COI, l'Associazione Chirurgi Medici e Ospedali di Italiani, presieduto dal dottor Ugo Bardi, responsabile del reparto di chirurgia videolaparoscopica della Casa di Cura Clinica Saus di Battipaglia. Le tecnologie di ultima generazione in primo piano, come la laparoscopia 3D Vision, gli interventi personalizzati sulle ernie addominali, le protesi biologiche. Qui grande attenzione alle ultime novità, le lamine dei tessuti animali, che vengono pian piano colonizzate dalle cellule del paziente e fatte sparire dalla natura umana. E poi le reti di contenimento, sempre più biologiche ed intelligenti, in grado di assecondare la muscolatura addominale. Anche le suture di fili hanno fatto progressi straordinari, sono fili capaci di dissolversi completamente, dopo aver assicurato la tenuta della protesi. Su questi temi i chirurghi cappari si sono confrontati alla presenza anche degli infermieri professionali, anch'essi al Baia Hotel, in un contemporaneo corso AICO. Gli infermieri, oggi tutti super laureati in scienze infermieristiche, devono essere sempre più specializzati nell'assistenza e nella gestione dei software e dello strumentario di sala operatoria. Con al centro non più la malattia, come qualche anno fa, ma il malato, con la sua personalità e la sua dignità. Grazie a tutti.